Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta alla ricotta con pesche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pesche, ricotta, farina, lievito per dolci, vanillina, cuccia di limone, zucchero e uova. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale lo zucchero e le uova. Le faremo montare per un minuto a velocità 5. Adesso aggiungiamo la ricotta. Amalgamiamo il tutto per 30 secondi a velocità 5. Ora aggiungiamo i resti degli ingredienti, quindi la farina, il lievito per dolci, la vanillina e la muccia di limone. amalgamiamo il tutto per un minuto a velocità 3. Nel frattempo imburriamo uno stampo a cerniera nel quale riverseremo il nostro composto. Il nostro composto è pronto. Adesso andiamo a versarla all'interno dello stampo. Adesso andiamo a posizionare le pesche. Adesso andiamo a cospargere con un po' di zucchero semolato. Adesso mettiamo in forno caldo a 180 gradi per 35-40 minuti. torta alla ricotta con pesche. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.